Facciamo la spesa per nutrire il corpo, compriamo cibo perché abbiamo bisogno di mangiare. Allo stesso modo i libri sono una spesa necessaria per la mente e per l'anima, ma a differenza del cibo non saranno mai troppi. In Italia si legge poco, si sa, tuttavia chi legge lo fa con cura e grande passione. E tra chi ama leggere c'è anche Pescara, dove le occasioni letterarie sono numerose e frequenti e che non a caso aspira a diventare capitale del libro. Tanti appuntamenti come Pescara Leggi di Forte, maratona di letture ad alta voce, una pratica che sta vivendo grande riscoperta a livello nazionale e un'altra serie di eventi disseminati in tutta la città, organizzati dalla rete del libro Pescara Legge, dall'Associazione Movimentazioni e dall'Assessorato alla Cultura del Comune. Da oggi fino al 23 aprile la città è animata da libri, lettori ed editori, tanto per anticipare il maggio dei libri. Tra le iniziative del fine settimana c'è anche la maratona di lettura partita stamane nella sala consigliare del Comune. Il libro scelto dal Sindaco Masci, dall'Assessore Carote e dal Presidente del Consiglio Antonelli è La piazzaforte di Pescara di Licio di Biase. Questa è la tappa numero uno della maratona, della maratona che si svolge all'interno del Comune di Pescara. Io e il Sindaco abbiamo ritenuto molto significativo leggere dei passi che riguardano la storia della nostra città. Poi ci sono tanti altri momenti, alcuni anche in contemporanea, in tanti altri luoghi, anche dei più inaspettati come il cimitero. Sì, questa diciamo che è un'iniziativa anche un po' particolare che è partita da un mio impulso visto che ho la delega sia alla cultura e sia ai cimiteri anche perché ritengo che sia un luogo simbolico, importante della città che deve essere comunque valorizzato anche dal punto di vista culturale di riflessione, di incontro e di confronto. Si inizia oggi con la maratona di lettura, il progetto finanziato dal CEPEL con l'Associazione Movimentazioni e con il Comune di Pescara. Si prosegue domani e dopodomani all'interno del Museo delle Genti d'Abruzzo con l'Extra Flà. Poi ci sono gli editori abruzzesi che nella giornata di domenica faranno presentazioni di vari libri al Teatro Cordova e nel frattempo in altri luoghi della città ci saranno anche altre iniziative al Circolo Aternino, ci sarà una premiazione alla sede di Barbuscia insomma veramente tante cose da fare.